Il nome del capocarro è Davide Soggia, antico bordo di Ivrea situato sulla sponda destra nella Dorabacqua, un bordo con vecchie tradizioni carnacialesche e culinarie, un gruppo così di maldi giovani e lanceri che vogliono ricordare questo rione meraviglioso di Ivrea, il borghetto. Cavalli Frisoni, è bello osservare come ogni attacco abbia dei colori diversi, con delle fiancate, tutti questi carri sono veramente bellissime, una volta i carri erano meno curati, non con questo che non fossero altrettanto belli. Cavalli Frisoni, una delle carruzze di un carri, sono questi lunghi, crini, neri. Grazie a tutti.